...la parte di soggiorno, grazie a questa agenzia di Desenzano, è importante chiarire una cosa. Questo documento contende di restare in dettaglio, in determinato, quindi è un pezzo di carta molto importante per noi sbagliati. E quali sono i requisiti che dobbiamo avere per ottenerlo? No, soggiornare regolamenti per almeno 5 anni. Due, avere un lavoro regolare. Tre, dimostrare di conoscere la lingua e la cultura italiana, sostenendo un bimbo regolare. Faccio, faccio. Faccio, faccio. Faccio, faccio. Faccio, faccio. Scriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.